Buongiorno a tutti, tra poco assisteremo a una grande partita, siamo qui in fibrillazione, vi promettiamo che ci divertiremo. Sono Fabio Caressa e accanto a me Peppe Bergomi, il campionato ancora in fase di delineazione, anche se cominciano già a emergere i primi segnali forti. Oggi mi aspetto una partita vibrante. Maximiliano Pellegrino Ambrosini Zlatan Ibrahimovic, bella azione in copertura Deve metterla in mezzo Avanzia nell'area avversaria Igalo Riceve palla oltre il centrocampo avversario Riuscirà e il difensore riesce a metterci una pezza all'ultimo momento Patto Palla spedita direttamente in fallo laterale Ambrosini Circombarco Ronaldinho Da lì può metterla in mezzo Il compagno scatta sulla fascia destra Riesce a fermare l'avversario lanciato a rete Antonini Zlatan Ibrahimovic E qui sarebbe utile un buon cross La palla sarà rimessa dal fondo La palla esce dal campo Zambrotta Igalo Palla fuori Ci sarà una rimessa laterale Jimenez Fuori Fallo laterale Flamini Ambrosini Ambrosini Si avvicina alla fine del primo tempo 0-0 Grandissima giocata I difensori sempre attenti Pato Cerca di controllare bene Ronaldinho Riescono ad attaccare tutti insieme Vediamo se ce la farà crossare Pirlo Occhio Assegnato Pirlo Rompere il ghiaccio Gli trombi di allenatori hanno scontato l'intervallo per pensare che toglie cambio Igalo Igalo Pato Pirlo Antonini Pirlo Pirlo Zlatan Ibraimovic Ottima opportunità Tiro un po' Verità Bella azione Peccato per la conclusione C'è animazione a botto campo Pare che si stiano per effettuare delle sostituzioni Fabio questo è un cambio intelligente Tempismo perfetto dell'allenatore Stop di petto Si muovono bene Si fanno sotto Ottimo colpo di testa Jimenez Parte di nuovo la seconda Vediamo cosa succede Pirlo Pirlo Zlatan Ibraimovic Pato Pirlo Pirlo Il gol c'è solo il portiere Cerca spazio per il cross Ottima regazione dall'esterno di pensore Pirlo Pirlo Sta giocando davvero un'ottima partita Stanno facendo di tutto per portare a casa la vittoria Budan Si impadronisce della sfera e prova a ripartire Antonini Ci sarà poco da recuperare Soltanto un giro di orologio Il compagno sulla destra si libera Aspetta il passaggio Pirlo Dovrebbero sfruttare meglio i cross dalle fasce Budan L'arbitro fischia alla fine dell'incontro 1-0 E tutti sotto la doccia Una vittoria molto importante Anche Anche